Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera, bentornata Rosi Braidotti, filosofa dell'Università di Utrecht in Olanda, buonasera, benvenuta Lucia Capuzzi, inviata di Avvenire, buonasera, bentornato Paolo Mieli, editorialista del Corriere della Sera, bentornato Massimo Giannini, editorialista di Repubblica. Negli ultimi 80 anni mai in Europa c'era stata una Pasqua con tutti questi ecchi, questi venti di guerra, subito dopo la pubblicità. Massimo Giannini, allora dicevamo presentando questa puntata che l'Europa sono quasi 80 anni che sta vivendo in pace, probabilmente mai in questi ultimi decenni abbiamo vissuto una Pasqua con così tanti ecchi di guerra, stasera tra l'altro due caccia italiani hanno intercettato degli aerei russi nel Mar Baltico e in serata il Ministero della Difesa italiano ha precisato che questi aerei russi non avevano intenzioni ostili, ecco meno male che non c'erano intenzioni ostili, ma insomma diciamo che forse si presta anche più attenzione di sempre adesso o comunque dalla Seconda Guerra Mondiale in poi. Allora ti volevo chiedere, siccome sia Macron, sia il Presidente francese Macron che il Presidente del Consiglio Europeo Michel, oggi anche il Presidente del Consiglio Polacco Tusk, mettono tutti in guardia che ci potrebbe essere una guerra in Europa, Tusk ha detto che la guerra in Europa è un pericolo reale ma non siamo pronti, ma siamo davvero alla soglia di un possibile conflitto oppure viene fatta una pericolosa campagna elettorale su questi temi? Io non sono uno storico come Paolo, ma che l'ora sia buia per usare una formula cerciliana mi sembra abbastanza evidente, dopodiché c'è una asimmetria tra la comunicazione dei capi di Stato e di Governo di questi ultimi giorni e l'atteggiamento e lo spirito delle opinioni pubbliche che sembrano ovviamente molto stanche di una guerra, soprattutto quella in Ucraina che si protrae ormai da più di due anni, alla quale si aggiunge ora anche il conflitto medio orientale. Dall'altro lato appunto l'establishment invece sta drammatizzando molto la situazione. Io non penso che sia un problema di campagna elettorale perché non credo che dire siamo a un passo dalla guerra porti i voti, proprio perché l'opinione pubblica è viceversa così stanca e anche se vogliamo scettica rispetto a tutto questo, noi insomma è Pasqua e stiamo discutendo della colomba vegana piuttosto che, ecco mi pare che nei popoli non ci sia la percezione, quindi che i capi di Stato richiamino... E anche i sondaggi, scusami Massimo Giannini, il nostro di Demopolis ha certificato che insomma la stra stra grande maggioranza degli italiani non ne vuol sapere di interventi diretti nei conflitti, quindi... E certo, però ecco detto questo, quindi se i capi di Stato e di Governo, diciamo se le elite e l'establishment richiamano alla realtà dei fatti che è effettivamente drammatica, a mio parere non fanno male, però dov'è il limite? Io credo che intanto giustamente bisogna prendere atto del fatto che l'Occidente non esiste purtroppo, non è soltanto un problema europeo, è anche un problema americano come stiamo vedendo, anzi potremmo dire che tutto quello che succede sta avvenendo proprio perché l'America non è più quella che abbiamo conosciuto, non è più il gendarme del mondo, non esercita più nessuna forma né di leadership né di dissuasione, però quello che dico e concludo è questo, da chi governa popoli io non mi aspetto solo l'allarme, a me viene sempre in mente in queste circostanze una signora che è in presenza di un'altra emergenza, che era quella dei migranti, non si limitò a dire come facevano molti capi di Stato e di Governo, soprattutto delle destre, li dobbiamo fermare tutti, è una tragedia, no, aggiunse esattamente, pronunciò nel 2015 la famosa frase Wir schaffen das, cioè è un gigantesco problema ma lo gestiremo, ce la faremo, voglio dire che il dovere di chi governa è anche quello di rassicurare le opinioni pubbliche, abbiamo un tragico problema ma dobbiamo adoperarci per affrontarlo e risolverlo, quindi lancino pure gli allarmi ma ci dicano anche come si fa a provare a garantire la pace in Occidente e nel mondo oggi. Professoressa Braidotti, c'è qualcuno che lo sta facendo, che è in grado di farlo e a parlare di pace a parte Papa Francesco, oggi sono soprattutto le forze di una sinistra radicale oppure le forze di destra estrema, c'è un cortocircuito, che segnale è? Grande Papa Francesco, anzi gli faccio gli auguri di Natale e anche per la sua salute perché ne ha bisogno. Di Pasqua? Servirebbe uno sforzo collettivo un po' più sistematico per riuscire a fare della pace l'orizzonte verso il quale vogliamo dirigere, dobbiamo volerla questa pace. Per i momenti ho l'impressione che per stanchezza o per convinzione la guerra ha un po' vinto nel dibattito pubblico e nella stessa della gente anche, senza contare il fatto che internet è un campo di battaglia quasi permanente. I due estremi politici di destra e sinistra si congiungono, ma spesso per ragioni molto diverse e questo è tipico dei populismi contemporanei, grosso problema perché crea polarizzazioni divisive ma fa anche una grandissima confusione. Paradossalmente parlando di pace si innescano dinamiche sociali e politiche molto violente e questo lo vediamo quotidianamente nelle nostre università e ci fa molto dolore una cosa del genere. Una battaglia contro la guerra che però non costruisce una cultura della pace che è molto di più che l'assenza della guerra anche se la richiede. Concludo, l'altro aspetto inquietante di queste polarizzazioni è che si fondano su semplificazioni tremende di questioni complesse. Il dibattito pubblico si butta, soprattutto in Italia, sulle tifoserie opposte, sei con noi, da che parte stai? Senza rispetto per la complessità non si costruisce una cultura della pace, ci si fa solo guerra anche a parole ed è anche questo un pessimo segnale. Sei d'accordo Paolo Miele, ti interpello naturalmente da storico, cioè guerra e pacifismo sono diventate in qualche modo oggi le vere linee di demarcazione, non più tanto destra-sinistra, perché abbiamo sentito sia Giannini che la professoressa Braidotti, dice che la guerra ha già vinto nel dibattito pubblico e che comunque per costruire una cultura di pace bisogna andare un po' oltre le eccessive semplificazioni. Beh ha detto una cosa in più la professoressa Braidotti, ha detto che c'è una partita che noi spesso osserviamo poco, che è quella nel mondo web, su internet, dove lì non so se la guerra abbia già vinto o se sia invece prevalente il sentimento, lo metto tra virgolette pacifista, ma com'è la situazione adesso? È che Trump sta prevalendo, sembra prevalere Biden, è stato costretto a fare dei passi indietro e l'America non può più dare il supporto, non riesce più a dare il supporto che dava prima. E io sono rimasto sconvolto stamattina leggendo l'interessantissima intervista a Tusca di Tonia Mastroboni su Repubblica, perché tra le righe bisogna leggere queste interviste, diceva che l'Europa non è pronta, l'Europa in questo si è cullata nell'idea che tanto le decisioni e le armi le metteva l'America ed è presa in contropiede. In più, se a questo aggiungi che l'Ucraina sta cedendo, il cedimento dell'Ucraina non significa pace, ma il cedimento dell'Ucraina significa la cosa su cui tu hai aperto la trasmissione. aerei che volano, certo non sparano, non sono offensivi, ma ogni giorno leggiamo notizie di questo tipo e quindi l'alternativa è guerra, guerreggiata o guerra alleggiata. Ma quindi ha ragione Giorgia Meloni quando ieri in visita al contingente italiano nel sud del Libano ha detto che la pace si fa con la deterrenza come ai tempi della guerra fredda, dico io, ricordo io, e non con i buoni sentimenti, con la deterrenza ai sacrifici. La pace si fa costruendo una difesa comune europea, costruendo armi, costruendo la possibilità che l'avversario sappia, l'avversario in questo caso è russo, che se ti attacca rischia di perdere. Se l'avversario ha l'impressione che provandoci una volta, due volte, tre volte tu hai dei cedimenti e non sei pronto, allora sono dolori. Quella è più guerra, sembra pacifismo, ma è più guerra. Lucia Capuzzi, siccome tu sei a Gerusalemme, che è la culla delle tre grandi religioni monoteiste, che significato hanno oggi parole come pace e guerra? E la pace si costruisce in realtà con le armi, come diceva prima Paolo Mieli? Io credo che stare qua a Gerusalemme, vista da qua, da Gerusalemme, sia la dimostrazione pratica che la guerra non risolva nessuno dei problemi per cui li ha creati e che una logica armamentista non porta a niente. Qua abbiamo due popoli che si combattono da almeno 75 anni e che hanno fatto una serie di guerre, una dopo l'altra, e che continuano a combattersi. Se abbiamo un esercito tra i più forti del mondo, che è quello israeliano, che sta combattendo nella striscia di Gaza, che è un'enclave molto piccola, anche se sovrappopolata, e che tuttora non è riuscito a prevalere dopo quasi sei mesi di guerra. Abbiamo un'Ucraina che è stata straarmata e che comunque due anni dopo non riesce a prevalere, è una guerra che continua a trascinare. Forse appunto da qua, da Gerusalemme, viene forse da dire che la pace non è questione di buoni sentimenti o di buone intenzioni, ma è l'alternativa. È così Massimo Giannini, è difficile in una situazione come questa. Ricordiamo che, lo diciamo anche nei giorni scorsi, che guerra e pace sono entrati già in modo molto forte nel dibattito pubblico e nella campagna elettorale per le europee, in Italia non solo, e quindi il Partito Democratico, per esempio, su forte volere della segretaria Elie Schlein, starebbe pensando di candidare l'ex direttore dell'Avvenire, quindi l'ex direttore di Lucia Capuzzi, Marco Tarquinio, che è un pacifista convinto, però questo sta creando forti dissapori all'interno del Partito Democratico. Ma fa bene l'Avvenire a candidare uno come Tarquinio e per il PD è così difficile oggi candidare un pacifista? Per il PD è difficile candidare chiunque, oggi come oggi. Il caso Tarquinio è il simbolo dell'irrisolutezza di quel partito. Perché lo dico? Perché una figura come l'ex direttore di Avvenire, dal mio punto di vista, per un partito progressista come il PD e riformista come il PD dice di essere, può rappresentare solo un arricchimento dal punto di vista politico-culturale. Però perché non lo rappresenta e diventa un'insidia? In un momento come questo, no? Tanto più in un momento come questo. Ora, nello specifico di Marco, oltre al tema del pacifismo si aggiunge anche un elemento di criticità che riguarda le sue posizioni sui temi etici cosiddetti, no? Cioè il fine vita, i diritti della comunità LGBTQ+, eccetera, eccetera. Tutte posizioni che appaiono poco conciliabili con quella del PD. Ammesso che il PD abbia una posizione. E qui torno al tema. Perché il PD è spaventato quando ha di fronte personalità che dal punto di vista culturale, ripeto, secondo me non possono che arricchire quel partito, ma che hanno posizioni differenti? Perché il PD non sa chi è. Il PD non sa chi è. È un partito che ha smarrito la sua identità. Faccio solo un esempio che a mio parere calza oggi con Tarquinio. Fatte tutte le debite proporzioni del caso. Il vecchio partito comunista, no? Aveva al suo interno componenti che erano la sinistra indipendente, Paolo lo sa meglio di me, la sinistra indipendente che erano Rodotà, Cavazzuti, Argan, Natalia Ginzburg. Cioè personalità importante, magari avercele oggi, ma di ispirazione culturale totalmente differente. Eppure erano membri del partito comunista. E quindi il fatto che oggi il PD non riesca a rappresentare voci diverse? C'era anche la componente cattolica, i cattolici del distenso, Franco Rodano, era tutta una, non era una corrente perché il PC non accettava correnti, ma erano ispirazioni culturali differenti da quelle, oggi diremmo mainstream del partito. Ma il partito se ne giovava. Perché? Perché sia pure supposizioni che oggi riteniamo superate o non condivisibili addirittura, però sapeva chi era, aveva un'identità e non temeva di contaminarsi. Oggi il PD non lo sa. Quindi è scalabile, contendibile e contaminabile da chiunque. Ecco perché ha paura. Condividi questo giudizio così, se è vero Paolo Mieli. Siccome siamo partiti da Marco Tarquinio che forse verrà candidato nel PD, tu su Tarquinio hai scritto che è su posizioni più sensibili alle ragioni di Mosca che a quelle di Zielensky. Ma non siamo più dopo due anni di guerra in Ucraina pacifista uguale filo putiniano. Guarda, Marco Tarquinio è un giornalista talmente amico che stimo a tal punto che penso che non si offenda. Per esempio, se io dico a me che sono più sensibile alle ragioni di Zielensky che a quelle di Putin, non mi offendo. Se lo dico a, per dire parlamentare, lì a Quartapelle. Però insomma, diciamo, sapendo e ricordandoci un po' tutto il dibattito. Questo è un fatto, cioè, è un fatto importante. Lì a Quartapelle o Pina Picerno, europarlamentari, se tu gli dici sei zielenskiana, loro dicono sì. Se quell'altro gli dice sei putiniano, quello dice ma quando mai io sono per la pace come il Papa? Ma un pacifista non vuole essere equiparato a... Ma insomma, infatti ho usato un'espressione come tu giustamente hai ricordato, ho detto è più sensibile. Allora, qual è il problema? È esattamente quello. Mi costa terribilmente dare ragione a Massimo Giannini, perché io per anni ho pensato che il centralismo democratico, cioè discutere, 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 poi prendere una posizione e quella ci si adegua, fosse una schifezza. E ho scritto 200 articoli contro questa cosa. Quindi stiamo parlando del vecchio partito comunista. Adesso dover dare ragione a lui e dire che questo quadro del PD che si presenta in tutte le elezioni sulla politica del Stato con tre posizioni, quelli che votano pro, quelli che votano contro e quelli che si astengono, sia nel Parlamento europeo che nel Parlamento italiano, è penoso. Ma Ellis Line dovrebbe candidare Marco Tarquini o no? Allora, candidare Marco Tarquini, per tornare al discorso prima, è come candidare Michele Santoro. Marco Tarquini ha partecipato a tutte le manifestazioni al teatro Ghione, ha preso le stesse posizioni di Michele Santoro, più ha sui temi etici delle differenze da Michele Santoro, ma sulla sostanza. Scelgano loro. Cioè, se loro vogliono... Tu non consiglieresti, sconsiglieresti. No, no, a meno che il Partito Democratico voglia prendere le posizioni... Guarda, io ti dico, dal mio punto di vista, a parte che ogni cosa, lo sai, che fa Ellis Line, la consigliere lo sacra, ma consiglierei di più di prendere per intero le posizioni di Marco Tarquinio e fare chiarezza, piuttosto che presentarsi ogni volta in quel modo, penoso... Credo ci sarebbero tre, quattro scissioni immediate. E non importa, ma è meglio essere chiari e sopportare una scissione. Poi, a chi se ne importa le scissioni, ma essere chiari è importante, perché la destra è avvantaggiata su questo. Allora, siccome... Ecco, solo una cosa, Lili, voglio dire solo questo, questo problema del PD non nasce con Ellis Line, ce l'ha da anni questo problema identitario del PD, per essere chiari. Non è che diamo tutta la colpa alla Schlein oggi, è così da tempo, purtroppo. Siccome tu hai lavorato a lungo con Marco Tarquinio come direttore della Vernire, del tuo giornale... 14 anni. 14 anni. Beata. Per chi sono troppo scomode le posizioni pacifiste, che sono poi le posizioni della Chiesa cattolica? E che non hanno niente in comune con le posizioni putiniane. Marco Tarquinio è un uomo di pace, su questo posso garantirlo, è una sensibilità molto diversa da quella di tutti. Detto ciò, perché è scomodo, io credo che Marco Tarquinio due anni fa, anzi più di due anni fa, abbia preso una posizione coraggiosa e il tempo si sta dando ragione. Due anni fa, anzi più di due anni fa, avvertiva sul fatto che questa retorica armamentista non avrebbe portato a niente neanche per il benessere degli ucraini. E oltre due anni dopo ci troviamo in una situazione in cui l'Ucraina continua a vivere un'aggressione feroce e non gli è stata trovata nessun'altra alternativa che non fosse quella di andare avanti con una guerra ogni tranca, illudendo l'Ucraina che l'Europa e gli Stati Uniti l'avrebbero potuta sostenere per sempre, quando sapevano perfettamente che non lo potevano fare, infatti adesso più o meno ci si sta tirando indietro, senza offrire una soluzione che implica una negoziazione, necessariamente perché le guerre si finiscono con la negoziazione, che non vuol dire non riconoscere un'aggressione, significa solo provare a capire e trovare un'alternativa diplomatica. A me preoccupa che i leader continuino a dare allarmi su allarmi, ma non portino come soluzioni, io le soluzioni le vedo quelle che portano, ma sono spaventose. L'unica cosa di cui si parla è continuare ad aumentare la spesa militare che aumenta in base ai dati internazionali anno dopo anno e che nel 2023 ha raggiunto l'ennesimo record. Eppure nonostante questo abbiamo oltre 180 guerre nel mondo, inclusa una all'interno dell'Europa. Rosi Braidotti, alla fine la pace si costruisce con le armi? Beh, è un discorso doloroso e complicato, ho grandi difficoltà ad accettare questo pragmatismo che però rispettando l'esperienza di tutti riconosco. Io preferirei che la pace si costruisse con delle idee condivise e con la costruzione di un orizzonte comune, cioè di qualcosa verso il quale tutti ci indirizziamo. Per me l'Unione Europea era quella roba lì, era questo quadro che tutti questi anni ci ha dato la capacità di discutere, la capacità di capirci, la capacità di non essere d'accordo. È possibile che tutto questo svanisca così perché all'improvviso Putin ci dice che lui ci fa la guerra, noi dobbiamo armarci e partire. Mi sembra una regressione psichica a proposito di stabilità mentale che mi inquieta un po'. Dove sono andati tutti questi decenni di cultura della pace che abbiamo costruito nell'Europa basata su posizioni antifasciste e anti-autoritarie? È svanito tutto così da un giorno all'altro. Mi sembra che siamo come un pessimo sogno collettivo, vorrei che ci svegliassimo e che ci dassimo da fare per lavorare per la pace, che è un lavoro, non una battaglia. È un lavoro, è questo. Ma chi è che non lavora per la pace? Secondo io non ho mai capito di questi discorsi che condivido, non ho mai capito perché quando mai Putin ha fatto un gesto, un gesto, ricordate me, si dice sempre due anni fa forse poteva trattare, ma quando avete visto? Non ha neanche ricevuto il cardinale Zuppi che è stato invece ricevuto, come ricordava con lui stesso in una trasmissione con te, da Zelensky e da Biden. Dove stanno questi decenni? Sembra che ci sia Putin che è pronto lì per fare una trattativa di pace. Questo inganno noi lo possiamo fare adesso, ma nella storia si saprà. Quando la racconteremo, Putin non ha fatto un solo gesto di mano tesa e di dire guardate, se voi accettate questo, che io mi prendo il Donbass, mi prendo la Crimea, se volete anche Odessa e mi prendo pure Leopoli, mi prendo questo e vi do la pace. Ma io non l'ho mai sentito neanche una volta. Allora, è questo il punto, Lucia Capuzzi e poi Massimo Giannini e Braidotti, torno a voi, perché dei leader occidentali, chi ha proposto in questi oltre due anni di guerra in Ucraina un... che ha fatto una proposta di negoziato a Putin? Ecco, adesso è caduta sulla domanda Clou, allora te la giro a te, Massimo Giannini. Cioè, ha ragione Paolo Mieli che non c'è la disponibilità di Putin, non c'è mai stata e... Questo mi sembra evidente. E chi però ha fatto in Occidente una proposta seria? Nell'ultimo numero di Limes, opportunamente secondo me, uno dei tuoi ospiti più autorevoli che è l'uso Caracciolo, ricordava che il governo Draghi, dopo pochissimi mesi che Putin aveva invaso l'Ucraina, aveva presentato un piano di pace che aveva dei punti di particolare interesse. Purtroppo è stato depositato subito, prima di tutto dal nostro governo, ma in generale dalla comunità internazionale. Ma lì c'erano alcuni punti di grande interesse che forse, approfondendoli subito, avrebbero potuto, non lo sappiamo perché non ci si è provato, aprire qualche breccia nel muro sovietico, lo chiamo così, anche se non è più sovietico. Soprattutto Putin e i suoi uomini non hanno mai dato un cenno o uno... Su questo ha ragione Paolo. Io posso dire una cosa ancora, perché anche questo va bene. Ma anche Zelensky ha sempre detto che non era disponibile. Zelensky l'ha credito, poveretto. No, la resa non è disponibile. Non è disponibile. Noi stiamo armando Zelensky, io sono favorevole sia all'aumento delle spese militari, sia in modo da non fare l'ipocrita, ma stiamo armando Zelensky per la difesa, capito? Stiamo ancora da Medeva lì. Ma comunque, se si arrivasse a una pace, ma i russi non hanno mai dato segni, mai. Si dice sempre, sei mesi fa... Sì, dottor Mieli, le donne, Women in Black, le associazioni di donne... Ah beh, no, quelli sì. Dicendo noi possiamo, dobbiamo, ci sono stati tentativi, ma in effetti non dai capi di governo, ma dalla gente, dalle militanti. E quelli parlavano, dai capi di governo. Sì, però possiamo dire una cosa, professoressa Braidotti, scusi, eh. Se parliamo di opinioni pubbliche, no? Anche questo andrà detto. Quando Putin ha invaso l'Ucraina, nessun cittadino europeo ha mosso un dito, è sceso in piazza, come ora, secondo me, giustamente si fa per protestare contro la strage che si sta consumando ogni giorno a Gaza, fermo restando l'orrore del 7 di 2. E questa è la differenza tra l'Occidente e quel mondo. E questo è il problema, anche questo è il problema. Purtroppo non ci mobilitiamo e Putin ha invaso in un modo che a noi è parso quasi fisiologico. Di più, la volta precedente con la Crimea approvò anche il Navalny. Lucia Capuzzi. Ma non mi pare, assolutamente. C'è un popolo pacifista che ha manifestato sempre in solidarietà appunto all'Ucraina e chiedendo una soluzione alternativa. Il punto è che la comunità internazionale non ha dei meccanismi, ha perso dei meccanismi per regolare i conflitti. Noi abbiamo un sistema ONU che funziona ancora come un sistema della seconda guerra mondiale, delle post seconda guerra mondiale. E nessuno dei leader prende sul serio la questione di riformare il Consiglio di sicurezza ONU che non è più rispondente alle esigenze di adesso. E nessuno dei leader internazionali, è vero che Putin ha fatto ben pochi gesti di pace, ma non mi pare che dall'altra parte ci sia stata una pressione per far sedere assieme i leader a negoziare. Io sono stata in Ucraina più volte e quello che si sentiva era sempre vittoria, vittoria, vittoria. Solo la parola pace sembrava un tradimento. Anche lì, perché si era illusi in Ucraina, che li si poteva sostenere. Salvo poi quando la guerra ormai inizia a stancare, si cambia scenario e si lascia la guerra in cancrenirsi lì tanto e in Ucraina. L'abbiamo fatto in Afghanistan, l'abbiamo fatto in Iran, l'abbiamo fatto in troppe parti del mondo. La Siria, che fine ha fatto la Siria? Lo Yemen, quando non sono più sotto i riflettori, si lascia. Qua in Medio Oriente, dagli accordi di Oslo, qualcuno ha vigilato su quanto accadeva in Cisgiordania, su perché quegli accordi non venissero implementati? No. Salvo poi ritrovarsi adesso con il 7 ottobre e riscoprire la Palestina e Israele. Allora, qui si apre un altro capitolo enorme che affronteremo di nuovo dopo Pasqua, perché io adesso vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro che ci riporta in Italia e ci riporta all'antitrust, all'anticorruzione, perché come era abbastanza prevedibile con tutti questi soldi che stanno arrivando, che sono già arrivati, insomma cominciano ad esserci dei problemi. Nell'ultima relazione annuale dell'autorità anticorruzione, alcune righe erano dedicate al ponte sullo stretto. Il presidente dell'ANAC faceva notare come il rapporto tra il concedente pubblico e la parte privata fosse squilibrato a danno del pubblico, che nel contratto si era accollato la maggior parte dei rischi. Abbiamo proposto alcuni interventi per rafforzare le garanzie a favore dello Stato, aveva aggiunto Giuseppe Busia, ma il governo non li ha accolti. Questo precedente forse spiega la particolare acrimonia con cui ieri il Ministero dei Trasporti ha reagito alle obiezioni dell'ANAC, questa volta a proposito della nuova diga foranea del porto di Genova, dove si riscontrano le stesse anomalie rilevate a proposito del ponte. I collaboratori di Salvini hanno accusato l'autorità di remare contro l'Italia. È un'accusa ricorrente e a ben vedere fondata, visto che in effetti ANAC, per statuto, deve remare contro l'Italia della corruzione, fenomeno che secondo l'ultima indagine internazionale costa in un anno alla nostra economia 237 miliardi per tacere dei danni morali. L'ANAC fa quello che può. Negli ultimi giorni non si è occupata solo di appalti miliardari, ma anche di affari minori, come il servizio ambulanze e l'elisoccorso della regione Lazio, la fornitura di gas in alcuni ospedali siciliani, la gestione dei fanghi nella laguna di Venezia. In alcuni casi l'intervento di ANAC è provvidenziale per evitare la revoca dei fondi europei per il PNRR, come nel caso dei cantieri ferroviari del Terzo Valico, o per impedire che nella sanità si concentrino in poche mani i contratti dei medici e degli infermieri a gettone. Chi rema contro talvolta ci fa restare a galla. Pasqua a tutti. Arrivederci.